Ci siamo, ci sei? Sì A posto, parloci un po' di te In breve Sono raffreddato Ottimo E niente, sono Ho vinto il coaching un po' Culo C'erano 5 persone Eh infatti Avevo smesso di giocare e poi ho vinto E a sto punto ci si prova Una storia appassionante ragazzi Esatto Allora Io ho visto il game E fare il discorso lì di jungle eccetera Tipo di tracking eccetera Secondo me è un po' useless Perché A silver barra gold Ancora basso l'elo Quindi gli avversari vanno dove Dove si fa le cose Cioè non c'è senso dire una lane push A lane non push Perché le lane fanno un po' quello che gli pare E ho visto che hai fatto errori E che continui a farli Soprattutto sulla build è nocturna Errori parecchio rai Sì ci sta Adesso Intanto entro in game E poi vediamo No no stavolta è nocturne jungle Non è shago È nocturne Allora un attimo che Non penso mi serva Penso poter lasciare questo qui De schermata Non so se mi serve Questa qui dello schermo Non penso mi serva la penna La penna magica Penso basti questa De schermata Comunque Allora Prima cosa Comunque Fate un'idea delle lane Più facili Che cosa vuoi fare con nocturne Prima cosa Qual è il tuo obiettivo in game Eh Farmare fino al 6 Esatto Prima cosa Esatto Farmare fino al 6 Quindi Irligank Si fanno solo se sono proprio free Cerca di evitarli Quindi Farmare fino al 6 Ottimo inizio Poi Tra te e Kane Chi è più forte Nei primi Nei trade in giungla Cioè se lo incontri Tipo nel river Chi vince tra voi due Forse perché c'ho l'edal tempo io Vinci tu Kane Irligame Extra weak Nocturne Su river I fight li vince Quasi contro tutti Nocturne con l'edal tempo Li vince quasi tutti A proposito delle rune Io ho visto che tu Hai preso l'edal tempo Che è giusto E È sempre giusto L'edal tempo Sì sì le rune sono fatte un po' a caso Però non mi devi Non mi devi prendere assolutamente il triunfo Cioè si prendi lì dal tempo E quel ramo lì Soprattutto perché puoi prendere il presence of mind Che quando uccidi qualcuno Dopo aver usato la ulti Ti ridai il 10% di cd della ulti E se prendi il presence of mind Quindi A livello di rune dovresti prendere il presence of mind Proprio sempre 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 E poi come secondo ramo Puoi prendere il sorcery se vuoi Ma Ti sconsiglio il celerity Perché Ti aumenta solo il danno Della Cioè non ti aumenta nessun danno Ti aumenta solo la speed Che ti dà la Q Che è un po' weak E assolutamente Pure in un meta in cui I game raramente vanno sopra i 30 minuti È meglio evitare di prendere Il Il gathering storm Perché Semplicemente non riesci a A renderlo forte È molto meglio se vuoi prendere il sorcery second O ti prendi un Un only fame gorbe Quello che ti dà il piccolo scudo contro la magic resist Se hanno tanti HP di bo Oppure puoi prendere Absolute focus Che è quello che ti dà Più danno quando stai sopra il 70% HP Quello è sempre buono in giungla E Puoi prendere absolute focus E waterwalking Che è quello che ti dà più speed E più danno sul river Così gli avversari Non ti possono mai contestare Nessun crab Nessun Nessun Adesso io non so se c'è il cliente in italiano No c'è l'inglese Nessun george Quindi Ok le cose che dico Non serve che ti spiego Quali sono più o meno Oppure Puoi prendere Come secondo Ramo secondario Il domination E prendi L'ultimate hunter Che è quello che ogni volta che uccide qualcuno Ti ridai il cd della ulti Tipo Fa un po' la stessa Ti dà degli stack E ti dà il cd per la ulti Perché è molto ulti dipendente Notturne E poi puoi prendere O il chip shot Che è quello che ti fa Fat true damage Oppure C'è quell'altro Che dopo che fai un dash Non mi ricordo come si chiama Comunque ti dà Ti dà le tai di roba varia Quindi Le rune Comunque le puoi trovare pure su propils Ricordate questo Le rune quando giochi un champion Guarda le su propils Perché è molto importante Avece Soprattutto Il presence of mind Su Notturne Perché il suo gameplay Gira attorno Soprattutto attorno a quello E poi Lo scaling No vabbè Lo scaling alt ci sta Comunque Per le rune Siamo a posto Adesso andiamo avanti A vedere un po' il game Come Come pro Come parte Partite con un invade Che va molto molto bene Però Devi pensare pure Quali lane Posso Guncare Più facilmente Puoi pensare a quello Probabilmente top Top si è molto facile Perché è Yasuo Top bot Qualche altro Non mid Penso Qua invadete Prendete Due flash Addirittura Che è strabuono Comunque Sì Prima del 6 Top è molto facile Anche dopo il 6 È facile Mid invece è molto difficile Perché c'è l'aftershock All'aftershock Lissandra Quindi io Mid ti consiglio Di ignorarla Quando c'è Lissandra E giochi un assassin Ignora Lissandra Perché Rischiate di Gridare E di fare dei dive Molto brutti Quando Ganchi Yasuo Non gancharlo mai Da dietro Tipo se lui sta qui Non gancharlo mai Da qui Passandogli dietro Cerca sempre Di gancharlo al lato Perché se no Yasuo ti dash addosso E ti passa attraverso E gli dai un free dash Quindi cerca di Prenderlo sempre al lato Ricordati questo Quando anche Yasuo Comunque qua Sì Prendete due flash Che sono buonissimi Però qua decidi di Startare bot lane Lo stesso Eh sì Secondo me Sarebbe meglio Startare la dopp lane Perché loro non c'hanno i flash C'hanno a lane Che comunque potrebbe pushare Siccome a stelo Non si rispetta Quando non c'ha il flash Giochi come se ce l'avessi La gente non gli importa Se non c'è il flash C'ha una lane Che comunque potrebbe pushare E' meglio Sempre startare Dalla lane opposta A quella che potresti Gankà Poi vabbè Tu dici Magari la mia bot lane Pusha E allora voglio Gankà top C'è poi pure Stalo start Dal red Dal blu Giusto perché Comunque Yasuo è facile Degancare Quindi vabbè E' accettabile Io però Ma è l'un po' superiore Avrei preferito Starta Dall'altro lato Perché questi Devono rispettarti Tanto Quindi c'hai La priority E la bot lane Free Oppure se Se pushano Più avanti Li punisci Con un gank Anche se Poi essendo Nocturne Comunque pensavo Di farmare Basta Sì sì vai Quello è giusto Però Se non hanno il flash Capito puoi Comunque pensare Degancare Non forzare Ovviamente Però se gli avversari Pushano e stanno qui E non c'hanno il flash E' free Gank Sì perché poi Mi sa che tra l'altro Il flash di Ezreal Non l'avevo visto Avevo visto soltanto Quello di Zira Su l'invade Ecco E flash ci dovresti Fa molto caso E dovresti Cercare di pingarli Flash Mari non ti dico Iscrivi il cd Però almeno Pingarli Per Esatto Dipingo però Questo mi era sfuggito Mi so Poi fai full clear Che è buono Eh no Torna Fai full clear Ci sta Un'altra Un'altra Che puoi fixare facilmente E devi mettere Comunque la ward A livello 1 Questo bash Se conviene wardarlo Oppure questo qui Comunque Metti la ward A livello 1 Per sapere Se il jungle avversario Va da In posti particolari Chiedi pure Ai tuoi laners La posso mettere Comunque tu La tua ward A livello 1 A meno che Non sei l'isin Che ti può servir Vibri gank La devi piazzare Ricordate Sì Qua fai Il tuo Wave clear Tranquillo De farmi Tutta la jungla Come è giusto Che sia Adesso vedi Qua Sta pianta Comunque Gli fai capire Dove sei Adesso non è grave Perché se no Tu ne vuoi farmare Quindi Ce sta in realtà Sta pianta Però con altri jungler Evita De De spottarti Così Tipo Se vuoi gankare Ovviamente Perché Fai capire agli avversari Dove sei Comunque Adesso Tu ti sei fatto Tutta la tua jungla Che va bene Qua potevi pensare Pure Qua vai Vai top Potevi beccare Ma Ce sta Sto gank top Perché lui sta pushando E gli aso Quindi il gank ci sta Ecco Andare qui dietro Eh Vabbè Alla fine Non sei proprio Andato dietro Però Cerca di tenerti Un po' più Sulla sale Perché se questo È più sveglio Fai il doppio saldo Qua salta addosso Salta addosso A cosa Salta addosso a te E sa lontana Adesso questo Non è una c Ma quindi L'ho ucciso stesso Però Cerca di arrivare Un po' più Dal lato Cerca di non Andargli dietro E qua c'è Il primo errore Evitabilissimo Che hai fatto È molto grave La Tiamat Perché la Tiamat Sul notturno Eh Perché Visto che Andando più avanti Nel game Faccio sempre L'hydra famelica Pensavo di Buildarmela subito Così magari Faccio la giungla Più in fretta Anche se magari Non serve Forse era meglio Farsi tipo Subito a D Letality L'hydra famelica È un item Che ti puoi fare Ma tipo Il quinto Sesto item Per dirti Sì sì Quella sì Faccio subito La Tiamat Non conviene Fare la Tiamat Per niente Perché tu non vuoi Arrivare così Lontano nel game A parte che Nocturne È uno di quei Champion che Non ha problemi A farsi campi Alla giungla Perché ha la passiva Alla Q Quindi ha molti danni Ad area Nocturne Quindi La Tiamat La prendi su Champion che hanno Problemi a Clearare i campi Come Camille per esempio Non riesce a farsi Raptor Senza la Tiamat Tanto bene Comunque c'è Un sacco di problemi A farsele Shaco pure C'ha parecchi problemi Quindi su Shaco Ti vuoi fare la Tiamat Però su Cebbia Come Nocturne È uno spreco I soldi Perché A parte adesso Costa addirittura Di più Quindi È ancora peggio Rispetto a prima E butti via Un sacco di soldi Con cui puoi snobolare Qui hai speso 1300 C'avevi 1400 Gold in bag In pratica E qua Potevi prendere Per esempio O i Red Smite Completo Più Un paio di Longsword O il Se potevi prendere Il coso Che da Cd quello che costa 1100 Più i boots Oppure Più le contro Comunque È meglio Qualsiasi altra cosa Rispetto al Tiamat Meglio prendere Roba che ti puoi Comprare subito dopo Perché tu vuoi chiudere Gli idem A dire il prima possibile Perché Nocturne Non è un champion Da DPS Quello che vuole fare lui È assassinare Un target E E basta Assassinarlo Il più velocemente possibile Senza far rendere conto Agli avversari Che l'ha ucciso Fondamentalmente Sì Quindi è molto forte Sulle side Devi chiudere Gli idem Il prima possibile Se sprechi i soldi Così Te penalizza Un sacco È una cosa Questa che poi Corregge Semplicemente Cioè basta che Ti ricordi Di comprare gli idem Con cui devi chiudere Poi Dopo questo Una cosa Un errore che ho visto Che fai Con Nocturne Quando sei In vantaggio Cioè più che altro Organizzate un po' Con i Crab Tipo Con i Con i Con i Cerca di prenderli Sì Soprattutto perché Tu hai la top lane Che sta vincendo Perché tu gli hai fatto Il gank top Quindi è in vantaggio La mid che stava Vincendo da sola Tu non gli hai dato Niente alla mid lane E sta vincendo In un counter matchup Con Talon Quindi sai Che queste due lane Vinceranno E ti possono venire Da una mano Di sicuro Prima delle lane Avversarie Se tu gli epinghi Che vuoi andare al crab Quindi dovresti Visto che tutte le lane Che stava vincendo In questo momento Perché anche la botte Le sta vincendo Dovresti concentrarti Un po' più Rispetto sul Clearare la tua giungla Sul Prendere Tutti Tutti i crab E anche invadere Kane Ovviamente non ti dico Di andare a invadere I wolf Qui Eccetera Però Fare il capolino Nella giungla Per vedere se C'è il blue up O invadere insieme Al tuo mid laner Eccetera O top laner Prendergli i raptor Starò qua qui Questi campi qui I raptor Il gromp Al massimo Il blue E il rosso Se ti organizzi Con i tuoi team mate Che stanno pushando E' strafacile Mandare indietro L'avversario E poi invade A volte anche da solo Tipo qua Vedi che c'è talone Che ha pushato Tu Adesso se questo campo Era up Lo potevi andare a invadere Lo puoi invadere facilmente Invece se tu Ti chiudi troppo Nella tua giungla Anche se tu devi Farmare per il 6 Però ti mangi Dell'occasione Ok Perché Ken E' stra weak Il lion Non ti può contestare Quando tu invadi la giungla E c'è le lane tue Che stanno pushando Tipo adesso vai al crab Però il crab Questo è stato up Per già un minuto Tipo Ken poteva già essere Solo preso Se era più sveglio Adesso c'è il 6 Grazie mille per la donazione Dopo leggo Un attimo sto facendo Il coaching Adesso tipo Tu c'hai Le lane che pusha Quindi è difficile Cancare Perché quando c'hai le lane Che pushano Non riesce a cancare Il ragazzo di più BG Dopo ti rispondo Non so che stai dicendo Scusa ma hanno fatto Una donazione Comunque Tutti stanno Pushando Quindi non puoi Cancarli Perché quando Pusciano Quello devi concentrare O sui obiettivi Tipo il drake Tipo adesso il drake Lo puoi fare facilmente Perché la tua bottene Sta pushando Oppure invadere L'avversario È una cosa che Non si fa Molto all'uelo Ma Perché si pensa Solo alle kill Si pensa solo Al cercare Di uccidere Gli avversari E quindi Mari Anche se lo fai Più tardi Perdi un sacco De tempo Tipo adesso Già Tu c'hai un tempo Morto In cui non puoi Fare niente Talon non c'ha Mana perché Vuole beccare C'è la bottene Che sta pushando Potresti Tipo Dà un'occhiata Per vedere Se c'è qualche Campo Mari Mette Vicio Mette Una vorde Qui Toglie Questa pianta Adesso Devi aspettare Talon Torna Back Poi però Ti potresti Fai Il drake E cose Vari Tipo Qui è buono Che invadi Invadi E li uccidi E questo lo puoi Fa Anche prima Anche senza La ult Adesso Qui È stra Credi Sta cosa Cammini Allì In mezzo È andata Bene È andata Molto bene Però È stra È stra Rischioso Chiudersi Così Qua Era meglio Scappare Via Qua Vabbè L'ha Unfiestato Quindi Ne avete Però Qua Presa La kill Dovevi andare Diretto al drake A farti Il drake Poi Vabbè È andata Bene V'è andata De culo Quindi Non vedo Niente Però Tipo Qua Che rimani Qua Cercate Torna indietro Qui Fai il giro De qua E fatti Il drago Qua Perdi Perdi Del tempo Perché Questo Te zona Cioè Vedi Hai perso Un sacco De tempo Hai perso Altri 25 30 Secondi Qua Becchi Non so Se beccare Te fermi Poi Vai Il drake Hai perso In totale Circa Un minuto E mezzo Per Per Fatti Sto Drek Questa È una Perde De tempo Che Puoi Evitare Poi Forse più che fare il drago Stavo pensando a divarlo Questa sera Eravamo in 4 Eh lo so però non c'è la ulti Quindi è meglio andare diretto al drago E in più Quando hai preso Dei guardare anche le risorse di mana Di HP Negli alleati Vai la pena Deivare un Ezreal 0 0 0 Quando Voi siete tutti Shutdown Praticamente A parte Lucian Quindi Il rischio è troppo alto Per quello che te dà Ezreal No Non conviene Poi Andiamo più avanti Qua fai Un altro back No ancora Non si è peccato Tipo qua Io non capisco Perché Non 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 ulti Cioè nel senso Aspetti così tanto tempo Per ultare Qua l'ulti ce l'hai già up Ce l'hai Perché aspetti in questo cespuglio qui Così tanto tempo Cespuglio Eh Aspetti che il tuo aliato ingrani Era deciso E qua Altro errore La Q Va fatta Io qui ho sbagliato Va fatta mentre sei in volo Poco prima di atterrare Così lo so però Devo avermi scliccato Qui ho qualcosa di simile E la W Va fatta subito Istantaneamente Va fatta subito Appena attivi Perché La cosa broken Del little tempo Insieme alla tua W È che La tua W Dura Un secondo e mezzo Un secondo e mezzo Il FIAR pure Dura C'ha bisogno di un secondo e mezzo Per attivarsi Mi sembra No Ha bisogno di due secondi Per attivarsi Però L'avversario Se aspetta che Passi Quei tuoi Quel tuo secondo e mezzo Di spell shield Non fa in tempo Uscire via dal FIAR Quindi se tu usi subito La W Gli avversari Devono aspettare Sta finestra Di un secondo e mezzo Per tirarti la skill E poi vengono Firati subito Qui invece Avrei Maria è stato un errore C'era però Non hai usato la E Perché pensavi Devo a shottarlo probabilmente Non hai usato la W Questa era una free kill Che potevi prende Sì sì Certo me lo ricordo Ho sbagliato anche a fare il FIAR Perché l'ho fatto troppo tardi Quando si era allontanato Avrei dovuto cliccare Tutto insieme Esatto Q subito W e Insieme Praticamente appena arrivi sul target E in più anche qui L'attesa è stata Troppo lunga Hai aspettato un sacco di tempo Per Per ultare Non so La stessa aspettata Tu pinghi qua On my way Questa ha usato la E Deve andare subito Diretto Non serve aspettare Che sta allontani Così tanto tempo Sultavi qui Anche mi stavi tutte le schede Riuscivi a ucciderla Sultavi quando lei stava qui Adesso vai back E fai un altro buy Un po' questo Una wall Ecco Perché Prima cosa Il blue smite Sul notturn Eh sì Ho sbagliato Tendo a fare sempre quello Quando in realtà Servirebbe quello rosso Oh ti dico Il blue smite Serve sui champion Che hanno problemi Ad A raggiungere L'avversario Esatto Quindi lo Esatto Lo fai su Ekarim Perché vai pure per la speed Eccetera A vari casi Eh Su sti champion qua Che non ci hanno Comunque Ci hanno problemi Ad arrivare addosso L'avversario Vai su Ekarim Non è un esempio calzante In realtà Perché Ekarim Ce l'ha comunque È solo meglio Tipo su Che ne so Non mi vengono Esempio Va bene Scusa Non mi vengono adesso Comunque Champion che hanno problemi Shyvana ecco Shyvana Te fai il blue smite Perché c'ha problemi Mi avvicinasse L'avversario E un altro problema È perché ti fai L'idem D'attack speed Su Perché ti vuoi fare Il La perla ciala Quella che ti dà Attack speed Sinceramente Mi era sembrato Rivederla Da qualche parte Usata In qualche streaming O su pro build Mi sembra Allora Io ti dico L'attack speed Quell'idem lead Lo puoi fare Quando c'è il tank meta Magari Quindi tu dici C'hanno Tank jungler Tank top lane Però Qua so Tutti i squish Non buildano hp E tu non c'hai tempo Di fare tutti quegli Autoattacchi Tu quello che vuoi fare Quando c'hai una zaira Contro un ezeral Un kain Un Uno yasu È Ultarne uno E one shotarlo Appena arrivi Non c'hai tempo Di fare tutti quegli Autoattacchi Perché sennò Ti one shottano loro Capito Sì E questi sono altri soldi Sprecati Perché non ti serve L'attack speed Cioè C'hai già Ti serve add Ti serve il più add possibile Qui già avevi chiuso Completo L'item da changle a dire Se non compravi il tiamat Più altri longsword Quindi già c'avevi un sacco di danni in più Poi qua si sente pure un po' La mancanza del presence of mind Per il cd della ulti Pure l'ultime tunter Quindi C'è pure Meno tempo Per Per attaccare Qua Loro stanno intanto Cioè intanto continuamente Qua state Stra-head Sto game Me l'avete perso Perché Vai te lo dico dopo Perché Dopo si vede E capirete il perché L'errore che hai fatto tu principalmente Comunque è stato Il chiuderti un po' troppo Nella tua giungla Quando sei molto head E Ken Non può fare niente Ken Se tu lo invadi Ken O muore O ti lascia i campi In ogni caso Tu vinci Questo è l'errore principale Che hai fatto Ken Quello che vuole fare In early game È scalare Scalare fino a che Non può prendere la forma Perché prima È useless Anche qui mi mettono il cespuglio Ad aspettare per troppo tempo No 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 Però qui c'è la ultima cd Quindi Ci sta Come cosa Cioè stai aspettando Anche quando mi torna Mi sembra che rimango fermo No 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 Qui Riven lascia poco Ecco Hai fatto bene Qui L'errore che avete fatto È di stare troppo tempo E avete gridato per Yasuo Qui Quello che dovevi fare È Pushare questa wave Insieme a Riven Come hai fatto E poi andartene Quando vedi Il tp di Yasuo Devi andartene Qua Questo è È bad Perché Una volta distrutta La plate Qua non lo fa vedere Comunque una volta Appena distrutta Una di queste resistenze No una di queste plates La torre Per un tot tempo Guadagna Delle resistenze aggiuntive In base a quanti avversari Ci sono sotto torre Quindi dopo che hai distrutto Due plate Te da me sembra Prende tipo 30 magic resist E armor Per ogni avversario Sotto torre E distrutte due plate Tipo In totale Da 60 resistenze Di armor Magic resist Per ogni avversario Quindi questa prende Tipo 120 armor Magic resist E roba del genere Comunque prende Una riduzione Di danni Abnorme E quindi fate Meno danni A torre Rivenciate i soldi A spend È molto low E siete delle prele Facili per gli avversari Cioè c'è stato Tanti motivi Per andare back In quel momento Già avete pushato La wave E siete pure Siete pure dei shutdown Succulenti Adesso qua Gli avversari Pure Sono stati stupidi Perché anziché Andare su VT Che sei uno shutdown Da 1000 gold Sono andati su Rivens E questi andavano su VT Tu davi 1000 fucking gold Qua ritornavano in game Con 1000 gold Se ritorna in game È mezzo item 1000 gold Comunque Andiamo avanti Un po' più De focus Sugli obiettivi Herald Drake Sto Drake Oppure si può fare Quando vuoi Se può fare sto Drake Davvero quando vuoi Perché la tua bot lane Sta hard vincendo Sta permobushando Questo Drake Tu vai E lo prendi E non te lo possono contestare Basta che c'hai Talon in mid lane E la tua bot lane A train qui E lo puoi fare Mi sembra che me lo stilano invece Sì però guarda Quando inizi a farlo Al ventesimo È troppo tardi C'hai 5 minuti qua In cui puoi fartelo C'hai il crab Qui invece vai a fatte C'hai Troppo la fissa Di fare i tuoi campi Appena sono up Puoi farmarti Tutta la tua giungla E poi fai il resto Però Questo ci sta Quando sei indietro Però quando sei in vantaggio Devi cercare De focussarti un po' più Sugli obiettivi Pure l'Herald Stessa cosa Puoi fare O Herald o Drake Puoi farli Quando vuoi Queste Infatti La prima torre Che prendete La prendete Al diciassettesimo Quando state in vantaggio Di 6500 gold Cioè C'avete un vantaggio Enorme E' un vantaggio enorme Eppure perdete tempo E non prendete obiettivi Qua tipo Potevi fare l'Herald Hai ucciso il midlay Hai ucciso il jungler Puoi fare l'Herald Invece vai bot Qui E niente Stai lì a aspettare Per Vedi Perdi Perdi questo tempo Qui a caso Questo è un altro fight A random Che ve va De culo Tu qua Vali 1000 gold Quando sei uno Shaddan da 1000 gold Non ti puoi permettere Dei Fa queste giocate Così rischiose Devi cercare Gli obiettivi E devi cercare Giocate strasicure Perché per 1000 gold Se gli avversari Flasciano in 3 E' comunque Worth E' ottimo Per loro Se ti uccidono Qua ti sei salvato Proprio Benedetto Dal cielo Comunque Per adesso Siete ancora In vantaggio Questa Dovrebbe morire Tu hai Missato a coma Sti cazzi Qua Guarda guarda Che fai Qua ulti Per cercare Hai fatto bene A non andarci Però Quando hai ultato Eri indeciso Se andaccio meno No è che ho perso vision No no Hai fatto bene A non andarci Assolutamente bene Il problema è Non ci sono andato Perché ho perso vision No perché Ci volevo andare Non ci dovevi andare È stata È stata Altra fortuna Questa Non ci sei andata Comunque Sei 1000 gold Vale 1000 gold Tu per Questa vale 250 gold Tipo perché è 0-3 Per 250 gold Tu dai Più di 1000 Dai 1000 gold Agli avversari Questa È Un errore gravissimo Cioè 1000 gold Sono E qua Rischiavi a morire Ezreal pure Non so Sei sopravvissuto Pure per Quasi Ezreal Poco poco Se girava Eri morto Tipo Comunque vedi Poi Il problema Principale Questo game Questo game Queste cose Ti ho detto Fino adesso Gli invade Eccetera Erano solo cose Per chiudere il game Prima E che potevi fare tu Potevi chiamare tu No Invade Obiettivi Eccetera Erano solo cose Per finire il game Prima Poi non è stato In realtà Ciò che gli ha fatto Proprio perdere il game Quello che ti ha fatto Perdere il game Vediamo se Te ne rendi conto Solo Vediamo che mi dici Adesso Mi metto più avanti Aspetta Quello che Mi è sembrato Quando giocavo E che In un team fight Io riuscissi a fare poco Perché loro gruppavano C'avevano Lissandra Esatto E' diventato rosso E quindi Tancava di più Esatto No era blu Era blu Era blu E allora Vabbè comunque In ogni caso C'ha la ultimate Mi può scappare Allora Hai individuato Uno dei problemi E ci sono Vari modi per risolverlo Quel problema Primo modo è La tua build Perché hai sprecato Questi soldi qui Se tu c'avevi L'item a D Della jungle E questo invece Diventava uno stopwatch Se tu ti guardi Su pro builds Tutti i notturn Ci hanno Item della jungle a D La task blade Che è giustissimo Subito Alcuni addirittura Se la fanno Prima dell'item Della jungle a D Se stanno Strasno bollando Però Va bene anche Item della jungle a D Dusk blade E subito dopo Fanno lo Stopwatch Subito Perché Sanno che Quando vai in Dopo i due item Gli avversari ti possono One shotare Fanno lo stopwatch Che poi diventa La La GA E questo Avendo quella build lì Ti permette di One shotare un target Perché c'hai molto BAD E Ti sopravvive Con lo stopwatch Fondamentalmente Dopo che hai ucciso uno Fai lo stopwatch E stai a posto Tu mi hai detto Prima Che il problema È che non riuscivi a fare Molto in team fatte E in effetti Nocturne N5V5 È parecchio debole Perché Può uccidere un target E poi muori E a volte Non riesci nemmeno a uccirlo Se sono in 5 Questa build È ancora più difficile Uccirlo Ci sono dei La cosa migliore A fare con Nocturne Sarebbe giocare Sulle sideline Ok Cioè Tu c'hai Il tuo top laner Che pusha top Anche perché c'hai Uno speed pusher Che arriva E un altro speed pusher Che è talon Se tu dici Ai tuoi Side laner Che sono avanti Sono molto avanti Agli avversari Di andare Uno qui E uno qua E pushare le wave E tu Col tuo Nocturne Tipo vai sempre A ammazzare Giasuo E poi prendi La torre È È stra easy Qua si chiama 1-3-1 Non è facile da fare Allo elo Però Basta che c'è uno Split pusher Anche Mandi solo Riven Inside lan Ok E la fai pushare Questa wave E voi state In 4 mid E poi tu Ti muovi Da qui E uccidi Lo Yasuo Perché lo one shottate Yasuo Se dai vado in 2 Insieme Lo uccidi E poi prendi la torre Gli avversari non possono Fare niente Perché Quando tu ulchi Non sanno dove sei Perché ha oscurato La mappa Non ingaggiano Di sicuro in mid Perché sono spaventati Da tua ulti E tu intanto Uccidi una persona Inside E prendi la torre E tu devi far sempre così Perché La loro win condition Sono i team Fight in 5v5 La vostra E lo split push Perché sia Talon Che Riven Che Nocturne Preferiscono lo split push Preferiscono uccidere Champion Nella sideline E poi romare Sono tutti champion Che danno il loro meglio Così E devi sfruttare Le I vostri punti forti Invece In questo game Che avete fatto Siete andati Letteralmente Per Non so quanto tempo Qua Fight a run Che nemmeno te commento Cioè Dove hai fight a run Ti hai baitato un po' Riven Anche qua Non so come cavolo Ti sei salvato Tu sei Fucking 1000 gold Continua Salvatte con 300 200 hp 100 hp Questi sono fight A random Che dovreste evitare Vien dato De culo un'altra volta Però non riuscite a prendere Obiettivi dopo Prendere questo obiettivo Guarda Guarda Baciato da Cristo Questo Cioè 200 hp Tutti con 100 hp E non morite Comunque Da questo minuto in poi Andate tutti In 5 mid Sempre State tutti in 5 mid Qui E c'è ragione Che dici Non riesco a fare Granché Perché Perché loro Sono più forti Nel 5v5 Invece tu Mandi Prima cosa Loro non possono Devarvi con questa comp Quindi se tu Mandi Riven Insideline Loro Non vi possono Ingaggiare In 5v4 Sottotorre Non possono farlo Perché perdono L'unica cosa Che possono fare È mandare Una o due persone In sideline In questo caso Gli servono due Addirittura Perché Riven È più forte Di Yasuo Adesso forse Riven con sta build De merda Non è più forte Di Yasuo Però Tu con Nothurn Riven E Nothurn Insieme Voi vincete 2v2 Contro Yasuo E E Kane Se focusate Lo stesso target Se andate insieme Sullo stesso target Con una build Un po' migliore Qui Quindi Mandate inside Divate Quello che rimane Il tizio Che va a cover Riven E poi Prendete La torre E fate così Tutte le volte Sempre stando Attento Il problema è che Mi devono ascoltare Quando glielo scrivo Eh lo so Ma glielo devi Devi essere convincente Mi sembra che ci ha provato Anche a scrivergli Una cosa simile Di splittare Visto che I fight Li perdevamo tutti Eh lo so Ma devi Devi essere più Devi convincere Perché se no Perdete Cioè A volte Ti capiteranno I game In cui non ti ascoltano Però In genere Quando sei così fidato E dici qualcosa Ai tuoi alleati Non devi essere arrogante Mentre glielo dici Devi dire Guys We Don't win team fight We are the win side Per esempio E li cominci a splittare Cerca di focusarti su Focusare la loro attenzione Sui lati positivi Di quello che vuoi fare Più che Sui lati negativi Di quello che state facendo Perché se tu dici We are losing every team fight Gli alleati già iniziano a A prendere Beh un flamer Comunque inizia a dire Vabbè questo vuole flammare Mi sono stufato Eccetera Devi cercare di essere positivo E dirgli We are the win side Quando vincete la side Le no speed push We are the win team fight Così Gli fai venire la testa Il pensiero di Ok se facciamo questo Vinciamo Non Se continuiamo a far questo Perdiamo Deve essere una cosa Capito Devi farli pensare In modo positivo Poi qua Vi ho detto Fate Tutti sti fight One by one E in 5v5 Quindi sono fight 5v5 Che avete giocato pure male E il game alla fine Va Va puttane così Perché Avete preso Meno vantaggio Di quello che potevate Prendere prima E poi Avete giocato Secondo la Win condition Avversaria Che è quella di Teamfightare in 5v5 Avete seguito La loro win condition Intanto Yasuo scala Yasuo due idem Diventa molto più forte Riven Keen ha scalato pure Lissandra Che da solo utility Comunque Scala E Da cc Da sempre la stessa roba Non sfruttate il talon Non sfruttate bene il notturn Sei a metà del potenziale Del champion E prendete un sacco De schiaffi Eh si Ho visto Poi Un altro problema Eppure la tua build La Altra roba della tua build La Yomus Qui ti fai dopo La Yomus È overkill Non ti serve quella speed Che Non ci fai niente Quella speed Al posto della Yomus Che altro pensavo Alla letality Però forse era meglio L'edge of the night A sto punto Esatto Allora Prima cosa Meglio di tutte e due È la GA Ti serve la GA Anche quella Prima lo stopwatch Che usi Non sprega Lo stopwatch Non fate subito la GA Fai il primo stopwatch Lo usi in un gank Poi ti fai la GA E poi dopo sì Se vuoi letality L'edge of the night È un ottimo item Te la pure HP Se non sbaglio Te la penso HP Adesso sì Quindi Te la molta più roba utile Yomus È la stessa storia Del blue smite Te serve sui champion Che Ci hanno problemi Arrivare vicino ai nemici E In generale In giungla Non te la fai mai Perché La dustblade Te la Più danno Te la più snowball potential Quindi è meglio La dustblade E Quindi tu in team fight Non puoi fare molto Perché ti ho detto C'è sta build Che te penalizza molto In più Quando superi 30 minuti Con Nocturne Ti hai messo Vede Qua vede Ti stila un drake Ma Già qua il game Sta andando a puttane Perché Continuate a fare 5v5 Se voi andaste In sideline Qui sarebbe ancora Vincibile addirittura Però Se lo facevate Dal quindicesimo Minuto Prendevate tutti Quegli obiettivi Era Molto più facile Il game Molto più semplice Devi ricordare Build Devi guardare Su propils Le build Io l'ho controllata E ho visto che Nessuno si buildava Steatham Buildatelo solo se C'hanno un doppio tank Al massimo Evita Yomus e Blue Smite Su Nocturne In generale È sempre meglio La D Cerca di Capire Prima che inizi Il game Qual è la tua Win condition E poi richiedertelo A metagame La tua win condition O speedpush Devi convincere I tuoi alleati A speedpushare C'è poco da fare Sì Altri Dubbi Qualcosa che non Ti è stato molto chiaro O qualcosa Che vorresti approfondire No no Ho capito Cioè Me lo immaginavo Che sarebbe stato così Più che altro Ora ho capito Che all'inizio Dato che vinco L'uno contro uno Col jungle nemico È meglio se lo invado O provo a fare qualcosa Per prendere obiettivi Invece di farmare Soltanto per il 6 Esatto Ricordati ovviamente Nell'invade Devi controllare pure Le lane che sono vicine Al campo E puoi invadere Perché se la tua Mid lane Viene pushata E Il mid lane Adversario può arrivare Prima di te Tipo Quindi Ricordati se vuoi invadere Questi Di avere il tuo mid lane Che pusha Esatto Se no arrivava Prima Alessandra Da me Esatto Se vuoi invadere Sempre i lupi Sta roba qui Top laner Che Il top lane Dovrebbe venire Direttamente con te Tipo dopo che ha pushato Una grande wave Gli poi chiedi Vieni con me Andiamo a vedere Se possiamo invadere Quando sei con Nocturne Dovresti organizzare Azioni coordinate Con lui Potete Daivare la top lane In tre Potete daivare la bot lane In quattro Però devi cercare De coordinarti Con la tua ult E la sua ult E niente L'è questo Eh sì Adesso Io penso Aver detto tutto Qui va Il stile Il nascersi Il resto È fuffa Perché già Qua il game È finito Il resto Consiste Io che cerco Di ultare In un fight Sperando di far qualcosa E invece vincono Sempre loro Perché A livello E sto più forte In team Infatti Sì Forse pensavo Che siccome Eravamo molto avanti Avremmo vinto In fight In qualche modo Invece Così non è stato Eh lo so Pure a me Mi capita ogni tanto Vede queste cose Pure è lo più alto Quindi È un errore comune Però devi cercare Non perdere Vista Dell'obiettivo Dell'impostazione Del gioco Che vuoi Avere Comunque io Ti ringrazio molto Per il supporto Per il supporto Al canale Grazie per essere qui Se ci vuoi Raccontare Non so Cosa fai nella vita Oppure Schifo Schifo L'aspetti anche tu Il reddito di cittadinanza Sì Sempre Siamo in tanti Siamo Infatti Comunque Grazie mille Per essere stato qui Grazie a te Io la saluto È stato È stato un piacere Anche per me Grazie Arrivederla Arrivederla Allora chiudiamo qui Discord Opla Allora ragazzi Ci avete Qualche critica Costruttiva Al coaching Qualcosa Che potevo affrontare A me Io ho deciso di Non affrontare il Jungle tracking E non so Soffermarmi troppo Sulle lane Su quello che possono fare Lane Perché essendo Silver Silver 2 Barra gold Barra gold elo Ho pensato Ho pensato che sarebbe Stato un po' Inutile Perché Mario e lane Non Non fanno Quello Che Devrebbero fare Quindi se ti basi Troppo su quello Rischi di Rischi di Perder tempo E rischi anche Di fare delle Valutazioni sbagliate E rischi di E rischi di